Salve ragazzi e ragazze, o quello che è, il mio nome è Capitan Jack Sparrow. Avrete sentito parlare di me? Avrete anche sentito girare voce? Che Jack Sparrow sta reclutando una ciurma per intraprendere un viaggio alla fonte della giovinezza. La natura dei pericoli che incontreremo sarà varia, compresi ma non limitandoci a zombie, tagliagole, è cominciato, sirene. A voi non interessa unirvi a me, no? Abbiamo alcuni nuovi caratteri che vi presentiamo a te questa volta. Abbiamo alcuni vecchi che vi tornano a te. Voi siete Jack Sparrow. Avete omesso un capitano, mi pare. Barbosa non è più un pirata. Ha cambiato le parti e ora sta lavorando per la città. Siamo o no, uomini del re. Ammutinati, abbeci! Blackbeard è uno dei più eviti caratteri che abbiamo mai avuto a te. Se non uccido un uomo ogni tanto, si scorderanno di me. Alla via così! E ha una figlia di figlia che tenta di ridurre. No! Padre, vi prego! E Capitan Jack, ovviamente, è in giro. Angelica aveva un rapporto con Jack Sparrow e Jack corrupa la sua. Com'è che non riusciamo a vederci senza che mi punti contro qualcosa? È un avventura sulle giuglie, in cacchi, in waterfalls. Mi è mai capitato di stare in un posto molto alto e voler saltare? A me, Mike. Dormirete da morti, boltroni! Hai finito? Direi di sì. Vendete, caro la pelle! Avete visto tutti? Perché col cavolo lo faccio un'altra volta. Sì!